Entro la fine del 2021 in Toscana saranno 113 i comuni con copertura in fibra ottica totale. Per adesso i comuni toscani connessi sono 74, in altri 45 i lavori saranno terminati entro il 2021. Per completare poi tutti i 273 comuni della regione dovremmo aspettare la fine del 2022. A fare il punto sulla connettività dei territori sono stati l'assessore regionale alla digitalizzazione Stefano Cioffo e il responsabile Network and Operation Area Centro Open Fiber Roberto Tognacini. Lo scopo di Open Fiber è quello di rendere omogeneo il territorio, cabrarlo e ridurre il digital divide. Non ci deve essere differenza fra un cittadino che abita in un paese che oggi è classificato alla bianca rispetto a un cittadino che abita a Firenze, a Pisa, a Livorno, a Grosseto, in un'altra delle città invece dove il servizio è più semplice da accedere anche con altri operatori. Ma ormai questa partita è assolutamente irrinunciabile. La connettività dei territori è il vero elemento di equità sociale, vuole dire di dritto di cittadinanza che la Toscana con determinazione vuole consentire a tutti i propri cittadini. L'assessore Cioffo ha presentato anche i voucher da 500 euro per le famiglie a basso reddito previsti dal Piano Nazionale per la Banda Ultralarga, che ha stanziato 5 milioni di euro per la Regione Toscana. I voucher potranno essere utilizzati fino a 200 euro per il canone di abbonamento ai servizi di connessione e fino a 300 per l'acquisto di dispositivi digitali direttamente legati al contratto per l'attivazione dei servizi di connettività. Grazie a tutti.